Allora intanto sono contento di avere questa possibilità di parlare al popolo coreano grazie alle paoline coreane che traducono e quindi compiono un'opera straordinaria perché la traduzione è sempre sottovalutata ma in realtà la traduzione è uno strumento fondamentale di trasmissione della cultura da sempre non solo oggi quindi grazie a tutti voi e cosa posso dirvi posso dirvi che darsi pace io lo considero una specie di motto del ventunesimo secolo una proposizione una proposta una speranza sia a livello personale cioè abbiamo bisogno di darci pace perché la società l'ambiente il lavoro la cultura nella quale siamo immersi è particolarmente frenetica accelerata determinata da una sorta di ossessione della produzione e del consumo dobbiamo produrre sempre di più per consumare sempre di più così abbiamo la possibilità di produrre ancora di più e di consumare ancora di più però sappiamo che questo non funziona perché il pianeta è limitato e quindi anche questa idea di uno sviluppo industriale tecnologico infinito è un'illusione perché in realtà sappiamo tutti benissimo che il pianeta ha dei limiti le risorse hanno dei limiti e quindi è un po folle immaginare questa crescita illimitata dentro un pianeta limitato allora darsi pace prima di tutto un compito direi interiore abbiamo bisogno di farci questo regalo cioè capire che alla fine puoi produrre quello che ti pare puoi guadagnare anche molti soldi ma alla fine se non hai una ricerca della pace non ti servirà a nulla non sarai felice non sarai soddisfatto lo sappiamo la nostra è una società anche di psicopatologie tante persone soffrono di depressione di angoscia di disturbi psicosomatici perché questa accelerazione frenetica è contraria alla nostra armonia fisiologica e psicologica quindi prima di tutto darsi pace come direi un compito ineluttabile necessario a livello personale ma poi anche e le due cose sono collegate le due cose sono collegate dare pace cioè cercare una maggiore giustizia a livello sociale a livello politico a livello globale cioè la nostra è una società non solo dell'accelerazione frenetica e dell'alienazione frenetica ma anche dell'ingiustizia crescente le disuguaglianze economiche anche nei paesi ricchi in europa negli stati uniti sono sempre maggiore maggiori la cosiddetta forbice si va divaricando e si va divaricando tanto più tra i cosiddetti paesi sviluppati e i cosiddetti paesi sottosviluppati che vengono sfruttati in una maniera sempre più grave aggravando poi i fenomeni dell'immigrazione che conosciamo che destabilizzano il pianeta quindi darsi pace a livello politico a livello economico a livello sociale è l'altro polo fondamentale un motto che assume caratteri direi rivoluzionari perché implica la contestazione di strutture economiche e direi mentali molto forti ora questi due livelli darsi pace a livello interiore e darsi pace o costruire la pace come dice il vangelo a livello del mondo noi riteniamo che siano indissociabili cioè non possiamo costruire la pace nel mondo se non ci diamo da fare innanzitutto one by one uno per uno a edificare un'armonia interiore che ci dia la forza di costruire la pace a livello planetario ma è vero anche l'altro cioè non posso occuparmi solo della mia interiorità come se potessi darmi pace in privato senza occuparmi del disagio dentro il quale vivo perché la pace è interiore ma la pace è anche sul posto di lavoro dove mangio quello che mangio quello che vedo alla televisione quello che ascolto su internet tutto può generare o distruggere la mia pace per cui i due elementi l'anima e il mondo sono tutte e due chiamati a darsi pace la vita religiosa la vita consacrata sta vivendo all'interno della chiesa una grande crisi una grande crisi che è la crisi che sta vivendo tutta la chiesa e che sta vivendo tutto il mondo tutta l'umanità noi riteniamo che questa sia una crisi propizia cioè una crisi di crescita non una crisi negativa una crisi inevitabile di crescita crisi di crescita che vuol dire vuol dire che certe forme storiche in cui abbiamo vissuto la vita religiosa non funzionano più questo è evidente questo spiega la crisi delle vocazioni molto forte in occidenti in europa e tanti fenomeni di allontanamento dalla vita della chiesa papa francesco nell'evangelii gaudium dice che c'è una crisi di trasmissione generazionale della fede cristiana nel popolo cattolico cioè non abbiamo più la capacità di trasmettere in modo affascinante credibile la fede alle nuove generazioni e questo purtroppo ce lo dicono poi le statistiche sociali e sociologiche allora la vita religiosa sta vivendo anch'essa come il matrimonio come la democrazia come tutte le realtà antropologiche una grande crisi e chiede una grande trasformazione una grande revisione una grande rigenerazione no con l'ultimo documento sulla vita religiosa vino nuovo in otri nuovi parla di questo c'è bisogno di nuovi contenitori di nuove forme allora darsi pace nel suo piccolo è un contributo anche a rinnovare la vita religiosa nel senso che offriamo alcuni piccoli strumenti che anche già in europa sono stati integrati nei cammini formativi delle congregazioni e degli ordini religiosi con buoni risultati la preparazione alla preghiera attraverso le pratiche di silenzio meditativo che tra l'altro nell'oriente sono state sono state sviluppate per millenni nella tradizione sia yogica che buddista alcune di queste tecniche possono essere integrate come preparazione alla preghiera quindi nessun sincretismo ma è ciò che anche il cardinale ratzinger propose nel documento orazioni sformas del 1989 dedicato appunto alle forme della meditazione lui dice letteralmente che alcune tecniche provenienti dall'oriente asiatico possono non è che un obbligo possono essere utilizzate come preparazione agli stati contemplativi questo noi vediamo nei nostri gruppi tra tante suore frati preti che ha un'ottima risposta quindi questo ascolto profondo che poi c'è stato anche nella tradizione cristiana di tutti i secoli ma che è stato un po' tralasciato ridà freschezza all'ascolto della parola e anche alla vita liturgica che ritrova freschezza no le parole tornano a parlare tornano a risuonare in un cuore sufficientemente svuotato sufficientemente silenziato l'altro elemento è strumenti di autoconoscimento cioè noi uomini e donne del ventunesimo secolo possiamo conoscerci meglio e questo lo sappiamo è una riflessione molto viva dentro la vita consacrata penso per esempio ad ammedeo cencini no il canossiano che da anni è un mio amico si si dedica a questa integrazione di elementi di psicologia del profondo nella formazione religiosa cioè c'è bisogno per tutti noi e io direi ancor più all'interno della vita religiosa di contattare riconoscere tutti i giorni le nostre aree ferite le nostre paure condividerle perché altrimenti queste aree chiamiamole difficili non è che non ci sono perché non ne parliamo perché facciamo finta che non ci siano ci sono e operano questo lo sappiamo in modo subdolo irrigidendoci ecco rendendoci poco felici e quindi anche poco credibili nella nostra testimonianza e infine poi l'elemento culturale molto importante cioè oggi una persona consacrata tanto più se fa un lavoro di apostolato e di apostolato culturale ha bisogno di avere strumenti conoscitivi per interpretare il proprio presente dobbiamo capire che cosa sta succedendo nel pianeta terra in una chiave ripeto evolutiva anche se difficile cioè dovremmo imparare a leggere i segni dei tempi in chiave messianica in chiave scatologica in chiave cioè di una storia della salvezza che è sempre ambigua è sempre conflittuale non è l'autostrada del sole in cui tutto va bene va bene no questo la bibbia non ce lo racconta nella vita di cristo però noi sentiamo grazie allo spirito che la direzione in cui stiamo andando è una direzione di crescita e questo però lo dobbiamo anche argomentare lo dobbiamo spiegare non è che basarirlo e quindi ci vuole una formazione culturale più solida in questo senso quindi questi tre elementi una maggiore formazione alla pratica meditativa e contemplativa una capacità di autoconoscimento con degli strumenti effettivi esercizi veri esercizi spirituali del ventunesimo secolo e una formazione culturale che non ci faccia sentire né smarriti né confusi in questo enorme passaggio antropologico ecco questi sono i piccoli contributi che darsi pace può dare ai religiosi del presente